Cari amici di Vox Italia TV, oggi alla Camera è intervenuta la Presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, ha puntato il dito in maniera molto molto violenta contro il Premier Conte, accusato di volere prorogare uno stato di emergenza che non c'è solo per blindare il suo sistema di potere. Sentiamolo. Grazie. Dunque Presidente io non userò mezzi termini perché a differenza di quello che ho sentito dire da molti colleghi io penso che quello che sta accadendo qui stamattina sia gravissimo e penso e non mi nascondo che questo sia il tassello di una vera e propria deriva liberticida che questo Governo ha messo in campo con la scusa del coronavirus. Perché vede Presidente Fico, Presidente Conte, non c'è un'altra ragione che spiega la sfrontatezza con la quale lei viene nel Parlamento della Repubblica Italiana a spiegare a dei legislatori che senza la proroga dell'emergenza non potrebbe fare cose che lei può fare tranquillamente con strumenti ordinari, tranquillamente con strumenti ordinari, come se non esistessero i decreti legge che avete usato per fare qualunque cosa in Italia e quindi ci spiega che noi le dobbiamo dare dei poteri speciali. Forse si sente ormai così importante, così potente da poter venire qui a deridere il Parlamento della Repubblica perché io penso che sia un po' eccessivo, glielo dico sinceramente. Allora mettiamo in fila alcune cose. Punto primo, nell'Europa che voi citate a ogni piesso spinto non c'è una sola nazione che abbia prorogato lo stato d'emergenza. Cari amici della sinistra, nell'Ungheria del temibile Orban lo stato d'emergenza è stato revocato un mese e mezzo fa e ridicolizzando ancora una volta quella sinistra che ci parlava di una dittatura. Allora, nella Francia dietro la quale vi state nascondendo lo stato d'emergenza è stato revocato venti giorni fa e c'è un regime transitorio che consente al governo unicamente di intervenire in alcuni ambiti molto specifici con provvedimenti estremamente puntuali. Allora, vedete, se nessun paese europeo ha revocato lo stato d'emergenza, perché deve farlo l'Italia? Cioè, noi abbiamo una situazione sanitaria in termini di contagio peggiore del resto d'Europa, Ministro Speranza, perché se è così voi venite in quest'Aula e lo argomentate sul piano scientifico, lo argomentate. E se anche non poteste argomentarlo, guardi, le dico di più, diciamo che voi avete delle informazioni che non abbiamo noi, non lo potete argomentare. Non serve comunque una proroga di tre mesi, perché scusi, Presidente Conte, lo scorso agosto, quando il Parlamento era chiuso, avete convocato i senatori in 24 ore perché bisognava passare dal conte 1 al conte 2 e le garantisco che se il Parlamento può essere convocato in 24 ore per i vostri giochi di palazzo può essere convocato in 24 ore anche per lo stato d'emergenza se avete un problema, o no, o mi sbaglio. Ma ovviamente il tema non è questo, perché lei, e in questo è stato onesto, lei viene qui a dirci che il problema non è il contagio, l'Italia non è una nazione più esposta delle altre, il problema sono i poteri del governo. L'Italia è l'unica nazione che ha un governo che pretende di avere poteri speciali anche se non ci sono delle ragioni reali per avere dei poteri speciali, questa è la nostra differenza. E infatti lei ci dice, no, che insomma, altrimenti una serie di cose, in pratica noi dovremmo prorogare lo stato d'emergenza per consentire al Ministro Azzolina di buttare qualche centinaio di milioni di euro per comprare degli inutili banchi a rotelle con i quali gli studenti potranno giocare all'autoscontro in classe, questo è in pratica il concetto. Ok, il punto è, qual è il prezzo che l'Italia paga per concedervi questa libertà? Davvero lei crede a quello che ha detto Presidente Conte? Davvero lei crede che non comporterà un problema al nostro turismo? Dire al cospetto del mondo che l'Italia ha ancora una situazione d'emergenza quando non ce l'hanno la Spagna, la Grecia, la Croazia o la Francia? Davvero lei pensa che gli investitori che vorrebbero mettere i loro soldi in Italia continueranno a farlo se noi diciamo che questa nazione è un'emergenza? Davvero lei pensa che quei commercianti o quegli imprenditori che sono in dubbio se riapriro o meno le loro attività? Non diranno vabbè aspettiamo che passi la tempesta, il governo dice che siamo ancora in emergenza? Davvero lei pensa a quello che ha detto? Perché io non posso credere che lei lo pensi davvero, quello che io devo credere è che non le interessa, è che è un prezzo che lei è disposto a pagare, perché quella della quale vi state occupando non è la salute degli italiani, ma è la salute del vostro governo, perché lo stato d'emergenza vi serve per consolidare il potere, perché lo stato di emergenza vi consente di fare quello che volete senza regole e controlli, questo è quello che voi state chiedendo al Parlamento della Repubblica Italiana e non si può fare finta che sia un'altra cosa, vi dispiace, non si può fare finta. Avete imparato la lezione, la lezione è che lo stato d'emergenza consolida il governo, non perché voi siate bravi a gestirla, è un fatto sociologico, è stato ampiamente spiegato, accade in tutti i paesi del mondo, quando c'è un pericolo che arriva da un agente esterno, il popolo si stringe attorno alla sua bandiera, attorno alle istituzioni, attorno al governo. In tutto il mondo il consenso dei governi è cresciuto durante l'emergenza Covid, qui i menestrelli di regime ogni giorno ci raccontano di quanto sia amato il Presidente del Consiglio, di quanto il suo consenso sia unico nel mondo, ma se fosse un consenso reale, se non fosse un consenso indotto, probabilmente avreste il coraggio di andare a libere elezioni invece di stare abbarbicati alla poltrona a tentare di cucirvi addosso un'altra legge elettorale per poter fare il governo anche se perdete le elezioni. Invece voi lo sapete che quel consenso non è reale, sapete che è la paura che vi genera quel consenso e quindi non volete fare a meno di questo vantaggio, perché quando non avrete più questo vantaggio allora rimarrà solamente il vostro cinismo e la vostra inconcludenza. E inconcludenza è una parola che non uso a caso Presidente Conte, perché vede lei fin qui ha avuto, lei e il suo governo, poteri straordinari, tanti e quali da configurare quasi i pieni poteri. Come li avete usati? Che cosa ci avete fatto con questi poteri incredibili che vi abbiamo dato? Certo non li avete usati per pagare in tempo la cassa integrazione, o per far arrivare la liquidità alle imprese o per abbattere la burocrazia o per aiutare le famiglie. Li avete usati per fare tutt'altro. Li avete usati per fare per esempio in pieno lockdown un'infornata di 300 nomine pubbliche mentre gli occhi erano rivolti altrove per sistemare qualche altro compagno di classe dei ministri del governo. Li avete usati per mettere nei decreti il rilancio e cura Italia, cose che non c'entravano nulla con la pandemia. Perché scusi, che cosa c'entra con il Covid? La proroga della concessione aeroportuale di Fiumicino ai Benetton che vale un regalo da oltre un miliardo. E cosa c'entrano 4 milioni di euro per combattere l'omofobia? Che adesso il Covid aumenta i casi di intolleranza verso gli orientamenti sessuali. Siamo seri, non mi pare che esistano evidenze scientifiche di questo tipo. Poi magari quando approveremo la legge Zan ci diranno anche questo. Ma ad oggi non ci sono evidenze. Non c'entra niente. Non c'entra niente. Ma voi avete fatto tutt'altro con questi poteri e con queste risorse. compreso, voglio dire, la famosa commissione per le fake news, il ministero della verità. Una serie di esperti nominati per dirci che le verità che racconta chi si permette di contestare il governo sono delle menzogne e le menzogne che racconta il governo invece sono verità. Come quando dicevate che le mascherine non servivano a niente. E poi la sanatoria degli immigrati nel decreto rilancio. Perché noi pensavamo di rilanciare l'economia regolarizzando centinaia di migliaia di immigrati. Sono queste le cose che ci sta chiedendo di poter continuare a fare. E mi dispiace Presidente Conte. Noi questo non lo possiamo consentire. Non lo possiamo consentire. E non consentiremo che continuiate a usare poteri speciali per non dare risposte agli italiani quando aiutate solo i migrati clandestini. Anche in rapporto a quello che accade in questi giorni. Con quale faccia avete multato i commercianti che scendevano in piazza chiedendo aiuto in modo composto? Con quale faccia chiudete le attività di chi non mantiene il distanziamento? Con quale faccia rincorrevate la gente con i droni sulle spiagge? E oggi consentite a migliaia di immigrati clandestini di entrare sul territorio italiano violando i nostri confini e poi violare la quarantena andandosene a zonzo anche quando sono contagiati? Con quale faccia? Ci dite che diavolo state facendo? È da pazzi irresponsabili, Presidente Conte. Perché noi abbiamo fatto sacrifici enormi per limitare il contagio. abbiamo condannato a morte decine di migliaia di attività rischiamo milioni di disoccupati e non lo faremo e non renderemo tutto vano per la nostra furia immigrazionista. E non rida perché non c'è niente da ridere. Non c'è niente da ridere. La nostra responsabilità ci impedisce di essere connimenti. Noi non saremo connimenti con questa roba qui. Noi voteremo contro Fratelli d'Italia e tutto il centro-destra compatto ancora una volta e non vi daremo tregua fin quando non restituirete agli italiani la loro libertà. Grazie. Grazie a tutti.